Bene, allora possiamo cominciare. Credo che abbiamo un certo periodo di tempo a disposizione per questa discussione. Forse non sarà necessario utilizzarlo tutto, ma intanto in attesa anche che arrivino altri possiamo cominciare. Io intanto per prima cosa, come primo punto vorrei ringraziare i relatori Ombra e i colleghi della Commissione che hanno dato il loro contributo a questo rapporto con la presentazione di un numero abbastanza consistente di emendamenti e spero quindi che dopo la discussione di questa mattina potremo lavorare in modo proficuo alla messa a punto di emendamenti di compromesso che rappresentino il contributo del Parlamento europeo alla definizione di questa nuova regolamentazione. Io vorrei cominciare suddividendo gli argomenti in due categorie. Vorrei affrontare sulla base degli emendamenti presentati sei questioni, poi se altre si aggiungeranno nel corso della discussione potremo approfondire gli argomenti. Tre questioni che ritengo di maggiore rilievo e anche più problematiche e controverse che riguardano la rotazione, il rating sui debiti sovrani dei Paesi dell'Unione Europea e la responsabilità civile. E poi altri tre argomenti che tratterò successivamente che sono la metodologia, l'over-reliance e il conflitto di interessi sui quali ritengo sia più facile trovare una convergenza. Vorrei cominciare trattando, senza discorsi di carattere generale, il tema dei debiti sovrani. Io credo che questo nuovo regolamento ha senso e può rappresentare un passo in avanti significativo se noi diamo una risposta e trattiamo in maniera efficace anche il problema della valutazione della affidabilità di credito dei Paesi membri dell'Unione Europea. Vorrei a questo proposito spendere, se i colleghi lo consentono, due parole sulla proposta che è stata avanzata da me come relatore della proibizione del divieto degli unsolicited ratings sui debiti sovrani. Vorrei chiarire perché so che molti colleghi, è emerso anche nel corso della riunione con gli Shadows, hanno sollevato perplessità riserve su questa proposta del tutto legittime. Tuttavia io vorrei spiegare e chiarire meglio il senso di questa proposta non allo scopo di insistere, con un'insistenza fine a se stessa, ma per poter dare il senso della ricerca comune che dobbiamo fare per trovare soluzioni appropriate. La premessa è che il rating del debito sovrano, a mio parere, ha una specificità e una particolarità che deve essere tenuta nella dovuta considerazione. L'impatto di un rating sui debiti sovrani non è evidentemente lo stesso rispetto ad altri tipi e ad altre forme di rating ed è per questo che richiede una regolamentazione, a mio parere, di tipo particolare. La proposta di vietare l'unsolicited rating sui debiti sovrani deve essere messa in relazione con l'altra proposta di poter dare vita, di poter istituire una entità pubblica, autonoma e indipendente che abbia, svolga il compito di effettuare il rating dei debiti sovrani. Alcuni colleghi hanno avanzato l'obiezione da tenere nella dovuta considerazione della possibilità che questo divieto limiti la libertà di azione e di valutazione. Ritengo questa considerazione importante ma tuttavia non pienamente fondata proprio in considerazione di ciò che dicevo prima, la particolarità e specificità di impatto dei rating sui debiti sovrani e il fatto che il ragionamento sulla libertà può essere rovesciato nel senso che si può conferire, si può dare la libertà ad uno Stato sovrano di scegliere se avere rating anche da agenzie di rating private oppure affidarsi esclusivamente alla costituenda, ancora da costituire, entità pubblica autonoma e indipendente. Ritengo che questo sia un punto importante perché l'informazione verrebbe in ogni caso fornita agli investitori da questa entità pubblica autonoma e indipendente per quanto riguarda il debito sovrano e gli investitori avrebbero comunque la facoltà di rivolgersi a una agenzia di rating privato per richiedere un rating solicited anche per quanto riguarda i debiti sovrani. Naturalmente questo è un punto che va considerato anche su un altro aspetto. A mio parere infatti la possibilità che si respinga la proposta del divieto del rating sui debiti sovrani lascia comunque intatta la validità, rimane valida, la proposta della istituzione di un'entità che svolge tale valutazione, lo ripeto, indipendente e autonoma, nell'ambito delle istituzioni europee esistenti, avente per oggetto quindi soltanto la valutazione dei debiti pubblici e quindi del creditworthiness degli Stati membri dell'Unione. A questo proposito trovo interessante l'emendamento che ha presentato il collega Feio, l'emendamento numero 380 intitolato Autorità europea per il debito, che va nella stessa direzione di ciò che io ho proposto. Il principio di fondo che voglio sottolineare è che nel caso anche della valutazione dei rating, quindi dei rating dei debiti sovrani, il principio è che una pluralità di voci e la loro comparabilità renderebbe più affidabili le valutazioni e ciò vale comunque in generale come principio sia per la sfera pubblica che per la sfera privata. Per quanto riguarda questo aspetto della costituzione di un'entità con queste caratteristiche che debba svolgere questo compito, io ritengo che possa essere importante il ruolo che direttamente o indirettamente può svolgere la Banca centrale europea. Questo argomento è stato oggetto di un incontro che ho avuto ieri dopo il dialogo monetario con il presidente dell'ABC Mario Draghi, il quale si è riservato di valutare e approfondire la questione e di dare a noi, a me come relatore e evidentemente al Parlamento, una risposta nell'arco al massimo di tre settimane, nel periodo di tempo di tre settimane. Quello che voglio sottolineare è che allo Stato attuale, per quanto riguarda la Banca centrale e in generale il sistema delle banche centrali, esiste già un know-how significativo per la valutazione dei debiti sovrani che sta all'interno dell'ECAF, cioè dello Eurosystem Credit Assessment Framework, al quale del resto si fa riferimento anche in alcuni emendamenti che sono stati presentati. In questo senso, quindi, io credo che la possibilità di utilizzare il know-how già esistente attraverso l'ECAF, attraverso la BCE, il sistema delle banche centrali nazionali, potrebbe portare in coerenza con quanto sostenuto da molti emendamenti, le istituzioni europee a sviluppare propri criteri specifici di valutazione, come del resto sollecitato da molti emendamenti, ne cito per esempio quelli del collega Canfene, ma ce ne sono anche molti altri. Io credo che la pluralità di voci potrebbe avere anche l'effetto di temperare l'effetto, la caratteristica prociclica di alcune valutazioni, come abbiamo visto in passato, sui debiti sovrani. Ma a questo proposito ritengo anche che sia importante tenere conto del contributo, per lavorare su una ipotesi di compromesso su questo tema dei debiti sovrani, come base di partenza che viene da alcuni emendamenti, come quelli dei colleghi Klins e Goses, ma anche di Ashley Fox, relativi alla possibilità di un timing preventivo o comunque a una calendarizzazione dei rating relativi al debito sovrano. Questo quindi per quanto riguarda il punto di partenza sui rating dei debiti sovrani, ho cercato di spiegare e di argomentare meglio il mio punto di vista, ma ritengo comunque che negli emendamenti che ho citato vi siano anche dei contributi significativi per poter cercare dei compromessi avanzati. Vengo al secondo punto che rappresenta un aspetto forse il più problematico, il più controverso su cui c'è un'importante discussione, quello relativo alla rotazione. Alcuni colleghi propongono la soppressione della cancellazione della norma proposta dalla Commissione per la rotazione periodica delle agenzie di rating. Io concordo sul fatto che la formulazione contenuta nella proposta di regolamento della Commissione ha aspetti di farraginosità, di complessità, di difficoltà applicativa. Ciò nonostante, credo che sia nostro compito come Parlamento compiere uno sforzo per indicare delle possibili soluzioni alternative che mantengano il principio di base, il principio di fondo che ispira questa proposta della Commissione. Vale a dire una maggiore apertura del mercato, una maggiore possibilità di concorrenza e di competizione che attualmente non c'è. A questo io credo bisogna dare delle risposte. Qui abbiamo sostanzialmente, a mio parere, due possibili strade davanti. La prima è quella, come propongono alcuni colleghi, penso agli emendamenti di Sharon Bowles, di Pascal Canfain, di Thomas Mann, ma penso anche alle proposte che sono venute in questo momento, anche se in misura parziale dal Consiglio. La prima strada è quella di lavorare su un cambiamento del periodo per la rotazione sottoposto a certe considerazioni e a certe condizioni particolari. Oppure, sempre in questo ambito, anche ai criteri proposti da Clute e da Portas, che voglio in questo momento ricordare affettuosamente, sui limiti di concentrazione di numero di rating per emittenti. Questa è la prima strada che possiamo seguire, a partire quindi dalla base che comunque la Commissione propone con il nuovo regolamento. La seconda possibilità è lavorare su un sistema alternativo che mantenga, come dicevo prima, la finalità, gli scopi della rotazione attraverso una combinazione di proposti. Penso all'emendamento GOSESS numero 264, che introduce la possibilità di una tender procedure, una procedura di gara d'appalto per la scelta, la selezione delle agenzie di rating. Penso all'emendamento 265 di Ashley Fox per la garanzia della concorrenza. Penso all'emendamento 268 di Wolf-Klinz relativo agli emittenti con più di un rating e con la possibilità di aprire alle small credit rating agencies. Fermo restando che abbiamo comunque bisogno di una definizione più precisa di ciò che è una small credit rating agency. In questo senso si può anche considerare la possibilità, avanzo questa ipotesi poi da approfondire meglio, di introdurre l'obbligo di più di due rating per prodotti complessi o per grandi società. Queste sono comunque le due strade possibili che abbiamo davanti. Da un lato lavorare sull'impianto offerto dalla proposta della Commissione con le modifiche che alcuni colleghi che ho prima ricordato propongono, dall'altro invece avanzare soluzioni alternative che tuttavia mantengano quella finalità di apertura del mercato di concorrenza che, ricordavo prima, è oggetto degli emendamenti di altri colleghi. Vengo al terzo punto più complesso e controverso, quello relativo alla introduzione del principio di civil liability, di responsabilità civile per le agenzie di rating. Anche in questo caso alcuni colleghi propongono di respingere il principio della inversione dell'onere della prova a carico delle agenzie di rating. Mi permetto anche su questo punto di suggerire maggiore prudenza nel senso che io credo che per quanto possa essere discutibile questa proposta di inversione dell'onere della prova si fonda su un principio e su un concetto base da tenere nella dovuta considerazione. Vale a dire il fatto che noi dobbiamo presupporre che sussista una asimmetria informativa fra l'investitore e l'agenzia di rating che può quindi giustificare nel caso del procedimento contro l'agenzia di rating una inversione dell'onere della prova. e considerare quindi che questa proposta ha in generale una funzione di deterrenza rispetto all'operato delle agenzie di rating. Naturalmente questo non significa, cioè non intendo dire che la proposta debba rimanere così come è. Ritengo infatti che possa essere meglio dettagliata e meglio articolata mantenendo però anche qui il principio. Penso ad esempio che si potrebbe introdurre un principio per cui l'agenzia di rating commette una negligenza grave se viola una delle condizioni poste nell'allegato 3 del nuovo regolamento o comunque disattende obblighi generali di lealtà e di diligenza salvo che non dimostri che questo è di peso da colpa lieve. Mi scuso qui, il terreno è più giuridico e quindi più complesso e io non sono un tecnico ma credo che abbiamo bisogno qui anche di alcune valutazioni di esperti e competenti. So fra l'altro che c'è una discussione molto approfondita nella Commissione Iuri. L'altro aspetto è che si può lasciare quindi questo principio aggiungendo però che l'investitore presenti con sufficienti dettagli con sufficiente dovizia di quantità di particolari indizi gravi dai quali si può dedurre che un'agenzia di rating ha commesso una delle violazioni gravi di cui ho parlato precedentemente. In ogni caso io credo sia giusto che l'agenzia di rating dimostri di avere svolto una accurata analisi di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione del rating sulla base dell'appropriata metodologia e ritengo anche che si tratti comunque di dimostrare che le informazioni provenivano comunque da fonti affidabili e indipendenti. Sottolineo questo punto, soprattutto questo ultimo punto sulla dimostrazione da parte dell'agenzia di rating dell'affidabilità del compito svolto perché a mio parere questo metterebbe in linea allineerebbe la nostra proposta con il Dodd-Frank Act che credo sia un aspetto importante da considerare. Accanto a questo io credo che la proposta sulla responsabilità civile potrebbe essere poi ulteriormente dettagliata e rafforzata introducendo, primo, il principio più chiaro dell'armonizzazione delle giurisdizioni le leggi applicabili quindi e il diritto a ricorrere a partire dal proprio Paese dove quindi gli strumenti finanziari valutati sono registrati in favore del titolare al momento dell'acquisto secondo, la necessità di una più chiara relazione fra l'autorità di vigilanza e le autorità giurisdizionali nazionali questo molto importante soprattutto dal punto di vista dello scambio delle informazioni terzo, l'introduzione di un principio di responsabilità proporzionata vale a dire distinguendo fra casi diversi ad esempio la portata reale del danno la distinzione fra un investitore istituzionale o non istituzionale l'eventuale concorso di colpa dell'investitore medesimo questo quindi per quanto riguarda le considerazioni sulla responsabilità civile e la proposta di non respingere, rigettare il principio della possibilità dell'inversione dell'onero della prova a carico delle agenzie di rating ma definire in maniera più dettagliata e più articolata anche attenuando e chiarendo alcuni aspetti l'applicazione di questo principio vengo adesso in maniera molto più rapida agli altri tre punti che ho richiamato e che riguardano la over-reliance la metodologia e il conflitto di interessi potrò essere più rapido perché ritengo che su questi tre punti la possibilità di convergenza sia molto più ampia e che sia almeno allo stato attuale delle cose più agevole trovare dei punti di convergenza in particolare per quanto riguarda l'over-reliance mi pare che ci sia una condivisione di fondo dei principi e degli obiettivi da raggiungere suggerirei di tenere nella debita considerazione l'emendamento numero 4 del paper che contiene l'opinion della Banca Centrale Europea relativo alla over-reliance on credit ratings by financial institutions che credo contenga dei suggerimenti interessanti penso che potremo lavorare sulla possibilità di avvicinare il periodo di transizione per l'attuazione di questo principio della diminuzione dell'over-reliance attraverso la revisione della legislazione e della normativa vigente io ho proposto un periodo di tempo di sei mesi ma comunque Goses ha proposto tre anni ma insomma penso che su questo si possa trovare una convergenza sottolineo comunque a latere che per quanto riguarda l'over-reliance io credo che il fatto che ci sia comunque questo dibattito sul ruolo e alla funzione delle agenzie di rating sta già portando in alcune situazioni a un ridimensionamento dell'affidamento alle agenzie di rating da parte di aziende, industrie, imprese, istituti di credito eccetera caso recente per esempio in Danimarca che io credo non sia negativo non per una logica diciamo puramente punitiva nei confronti delle agenzie di rating ma per sviluppare quella più complessa autonomia di valutazione soprattutto da parte degli investitori che sta alla base ed è uno dei principi che ispira appunto il nuovo regolamento per quanto riguarda la metodologia anche questo è un punto molto importante ed ha molto a che fare anche con la questione della trasparenza richiesta per i metodi anche qui voglio fare riferimento al fatto che in questo momento la discussione è molto ampia non soltanto in Europa ma anche negli Stati Uniti è un fatto recente ho visto che il recente preannunciato possibile downgrade di alcune banche negli Stati Uniti ha provocato una polemica piuttosto vivace da parte di alcuni rappresentanti del mondo finanziario mi pare che sia intervenuto in questo senso in modo critico anche il capo di BlackRock relativamente quindi alla discutibilità di alcuni criteri utilizzati per effettuare appunto downgrading io credo che per quanto riguarda la metodologia sia possibile trovare un punto di convergenza intanto chiarendo che il ruolo dell'ESMA deve essere un ruolo di verifica ma non ha lo scopo di attribuire una sorta di marchio di qualità mi pare che su questo punto sia condivisibile quindi la sottolineatura che alcuni colleghi in particolare penso a Goses hanno fatto ritengo anche che ci sia una convergenza abbastanza ampia si tratta di chiarire alcuni punti ma sono fiducioso su questo circa l'istituzione dell'indice europeo di rating da parte di ESMA sono del parere che si debbano tenere nella dovuta e attenta considerazione alcuni emendamenti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di tenere conto di alcuni criteri particolari da introdurre nella emissione dei rating mi riferisco in particolare all'emendamento CAMFAN riferito ai rischi ambientali e sempre agli emendamenti CAMFAN e CLIUTE PORTAS relativi all'introduzione e all'utilizzazione del principio di default della probabilità scusate di default e quindi della inadempienza infine l'ultimo punto sul conflitto di interessi anche qui credo che sia possibile lavorare in maniera positiva perché gli emendamenti tendono a convergere sulla trasparenza sul problema del superamento di ogni soglia per quanto riguarda le partecipazioni azionarie incrociate la proposta iniziale della commissione era di una soglia del 5% e partendo da credo si possa fare partendo da un emendamento mio presentato il numero 29 la possibilità di trovare un compromesso relativo ai divieti di fusione che del resto era stato preannunciato dal commissario Barnier prima della presentazione ufficiale del nuovo regolamento ma fu poi all'ultimo momento accantonato prima della presentazione ufficiale appunto del regolamento stesso ecco cari colleghi vi chiedo scusa per il tempo utilizzato sicuramente la mia esposizione contiene delle lacune delle mancanze cui sono certo voi potete rispondere positivamente colmandole e superandole con i vostri contributi e con i vostri interventi voglio concludere soltanto con una considerazione di carattere generale io credo che la questione delle agenzie di rating sia un tema su cui esiste una forte sensibilità politica lo si è visto anche in epoca molto recente durante dibattiti politico elettorali esiste una sensibilità dell'opinione pubblica io credo che come Parlamento europeo dato che rappresentiamo i cittadini europei e l'opinione pubblica europea abbiamo comunque il dovere di dare delle risposte che siano risposte innovative che siano risposte equilibrate ragionevoli ma non dobbiamo correre il rischio di dare l'impressione che il nostro contributo non cambia il quadro attuale e che la tendenza è quella a lasciare un po' le cose così come stanno io credo che questo non sarebbe positivo proprio per il ruolo politico istituzionale importante che noi svolgiamo in questa unione europea quindi